amici bentornati sul canale buon martedì oggi siamo fuori per tagli anche l'erba si vede e niente praticamente oggi ho deciso che in questi giorni smonterò il gazzolino che il vento dell'altro giorno e la praticamente sgangherato e quindi smonterò che il tavolo dove si è riuscita una lampadina si vede molto travicolo o che ci sono divani salottino staccherò tutte le luci buio vediamo spero che quindi paraggi di asamino metodino con un coglione che ragiona da solo comunque niente è il tempo del gazebino e ci vedremo l'anno prossimo si è attaccata anche la farina lì per le zanzarine con le lucine stile vintage e la sera c'era un atmosferino top e niente amici questo è quanto stamattina sono da far vaccino capaci l'analisi del sangue ho avuto il covid che bacino e niente voglio far vedere anche la mia creazione di questa romavera maiolina molto piccolino in legno c'è la ragionettina che adesso devo dare recuperarla questo è un po' l'erba questo è un po' l'erba e dovrò smontare il gazebino e poi penso che per un altro anno rifarò anche la pedana nuova qui sotto ora vediamo un po' quando smonto in che stato è detto questo vlog praticamente inutile però vedete che una settimana quindi queste azioni mi vado a sparare un altro caffeino o mi collasso sul divano domani forse 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 quindi amici buon martedì state sereni iscrivetevi se vi va commentate fate un po' quello che vi pare e come diceva il dogui see you later